Anatomia, apparato locomotore. In questo video non tratteremo un osso in particolare, ma daremo un'occhiata al cranio nel suo insieme, poiché il cranio non è la semplice somma delle ossa che lo compongono. Molte strutture del cranio si formano proprio dall'interazione stretta fra due o più ossa. Presteremo quindi attenzione particolare a tutte quelle strutture che non potevano essere analizzate parlando delle singole ossa. Innanzitutto bisogna dare una definizione di quali siano le parti che compongono il cranio. La prima divisione importante è quella tra neurocranio e splanchnocranio, che può essere data dalla cosiddetta linea cranio-facciale. Questa linea comincia a livello dell'articolazione frontonasale, o più correttamente a livello del nasion. Dopodiché risale lungo l'arcata sopraccigliare, raggiunge l'incrocio con la grande ala dello sfenoide, costeggia l'osso zigomatico e poi continua lungo il margine anteriore dello sfenoide. Questa linea divide quindi neurocranio e splanchnocranio. Altra linea interessante è quella che invece divide la volta dalla base del cranio. Tale linea comincia sempre a livello del nasion, segue sempre l'arcata sopraccigliare e il margine dell'osso frontale, dopodiché si mette sulla faccia laterale della grande ala dello sfenoide, seguendo la cresta temporale, che qui è solo accennata, e continua posteriormente fino alla protuberanza occipitale esterna, andando quindi a formare un piano di divisione quasi perfetto, che può essere schematizzato come un piano di taglio che parte dall'osso frontale a livello del nasion e raggiunge la protuberanza occipitale esterna. Ecco a voi quindi il limite fra la base e la volta. Analizziamo ora la configurazione esterna del cranio, cominciando proprio dalla volta. Come potete osservare, la volta del cranio non ha un gran numero di strutture, se non i due fori parietali, che qui non sono evidenziati, e le suture tra le varie ossa. Abbiamo la sutura frontoparietale, detta sutura coronale, poi c'è la sutura sagittale fra i due parietali, e la sutura tra i parietali e l'osso occipitale che si chiama sutura lambdoidea, che vuol dire a forma di lambda. Il punto più alto della volta si trova a metà della sutura sagittale, e si chiama vertice del cranio. Analizziamo ora la faccia laterale del cranio. Per analizzare questa faccia dovremo includere anche alcune ossa dello splanchnocranio. Le principali strutture che si trovano in questa zona sono la fossa temporale, la fossa infratemporale, e infine la fossa pterigopalatina. Iniziamo dalla fossa temporale, che è la fossa che si forma al di sopra del processo zigomatico, ed è uno scavo composto da due pareti che sono anteriore e mediale, rappresentate dal temporale, dalla grande ala dello sfenoide, e quella anteriore è formata dalla faccia posteriore dell'osso zigomatico. Superiormente è libera, inferiormente è libera, posteriormente è aperta in gran parte, se non per una piccola porzione del processo zigomatico e del temporale. Questa fossa offre un punto di adesione al muscolo masticatorio temporale. La fossa infratemporale, come dice il nome stesso, si trova al di sotto della fossa temporale. La sua parete anteriore è costituita dallo zigomatico e dal mascellare, mentre la sua parete mediale è costituita dalla grande ala dello sfenoide. Dalla parte bassa della grande ala dello sfenoide è dal processo pterigoideo esterno. Posteriormente è aperta, inferiormente è aperta, superiormente comunica con la fossa temporale. Caratteristica particolare, però, è la sua parete laterale, che viene costituita dal ramo della mandibola, che qui non è visualizzato. Sono numerose le strutture, sia muscolari che non, che riempiono questa fossa. L'ultimo spazio interessante della regione laterale del cranio è la fossa pterigopalatina, di cui abbiamo già discusso trattando diverse ossa. La fossa pterigopalatina presenta come parete anteriore la faccia posteriore del mascellare, come parete posteriore la faccia anteriore della lamina pterigoidea esterna e come parete mediale l'incisura pterigopalatina dell'osso palatino. La sua faccia laterale non c'è, in quanto tale fossa comunica con la fossa infratemporale. Attraverso questa fossa fuoriesce il nervo mascellare, che poi si distribuirà in tutta questa zona. Ma osserviamo ora la faccia inferiore del cranio, sempre parlando di configurazione esterna. Anteriormente qui è stata demolita tutta la parte bassa dello splanchnocranio. Ciò che vedremmo sarebbe il palato, formato dalle ossa macellari e dalle ossa palatine, con tanto di sutura cruciforme tra queste due coppie di ossa. Poi c'è la regione media, costituita praticamente dallo sfenoide e dalla piramide del temporale. Il suo limite tecnicamente dovrebbe essere il limite dell'osso occipitale. In questa regione possiamo osservare i processi pterigoidei e le coane, oltre che i vari fori dello sfenoide, che tratteremo meglio tra poco. Infine, la regione posteriore è costituita quasi completamente dall'osso occipitale con il suo grande forame, i suoi condili, e le sue due coppie di fori per ogni lato. Sulla parte centrale è presente il tubercolo faringeo. Ma osserviamo ora la superficie interna del cranio. Per quanto riguarda la volta, non c'è molto da dire. La superficie è concava, presenta le impronte delle circonvoluzioni e delle arterie e vene cerebrali, e per quanto riguarda tutta la serie di creste presenti al suo interno, ne abbiamo già discusso nelle singole ossa. È invece molto più interessante osservarne la base, per cui disegniamo questo piano di taglio. Come potete osservare, la base è una struttura piuttosto complessa. Si delimitano all'interno della base ben tre fosse craniche. Una fossa cranica anteriore, una fossa cranica media e una fossa cranica posteriore, per cui andiamo a studiarne bene i limiti. La fossa cranica anteriore ha come limite anteriore il limite tra base e volta. Posteriormente, invece, il suo limite è costituito dal margine tagliente delle grandi ali dello sfenoide, processi clinoidi anteriori, limite della conca olfattiva e così via, speculare dall'altra parte. Ci si possono osservare delle strutture interessanti, come la conca nasale, la lamina cribrosa dell'etmoide e il tetto della superficie orbitaria. Oltre a questo si considerano parte della base e principalmente della fossa anteriore, anche la cresta frontale, che comincia in questo punto, e i fori ottici. Vengono considerati interni alla fossa frontale perché presenti proprio sul margine di confine. La fossa cranica media, invece, presenta come limite anteriore l'interfaccia con la fossa cranica anteriore, mentre come limite posteriore il margine superiore della piramide del temporale e il margine del corpo dello sfenoide. All'interno di questa fossa sono presenti molti fori e molte strutture. Innanzitutto la sella turcica per l'ipofisi, l'apice della piramide con lo sbocco del canale carotico, la fessura orbitaria superiore dello sfenoide, il foro rotondo, il foro ovale e il foro spinoso appartenenti sempre allo sfenoide, lo iatus del canale facciale e il foro lacero, che si forma tra sfenoide a livello del corpo e apice della piramide temporale, che è attraversato dal nervo vidiano. La fossa cranica posteriore, invece, si viene a formare posteriormente al margine superiore della piramide, quindi comprende la parte posteriore dell'osso temporale e tutto l'osso occipitale, il suo limite posteriore e l'interfaccia base volta. All'interno ci troviamo il grande foro occipitale, i solchi dell'ipoglosso e il foro condiloideo, il clivo occipitale, le aperture del meato acustico interno e dell'acquedotto del vestibolo, e infine il grande forame giugulare, formato dai processi giugulari dello occipitale e dell'osso temporale, dove passa da un lato la giugulare interna. Poi dall'altro, vedete queste spine dividono il foro in due, il nervo glossofaringeo. Quindi, questa era la struttura del cranio nel suo insieme. Vi ricordiamo che questo video è stato girato grazie all'utilizzo di Anatomy Learning, un interessante web app il cui link lo trovate in descrizione.